Buongiorno a tutti, sono Alberto Cottarelli, agente della MAC. Oggi siamo qui per poter presentare il nuovo prodotto della Orange TPMS che dà la possibilità di rendere il sistema di rilevamento della pressione dei pneumatici da indiretto a diretto su tutte le auto del gruppo Volkswagen. Ho installato questo prodotto proprio sulla mia vettura che è una Skoda Octavia. Ho deciso di installare questo tipo di prodotto perché essendo un agente di commercio percorro diversi chilometri l'anno. Avendo questo sistema diretto riesco a tenere sotto controllo la pressione corretta dei pneumatici, questo mi dà più sicurezza e inoltre avere la pressione corretta permette anche di inquinare di meno. Con questo sistema quindi se dovesse avvenire uno sgonfiaggio di uno pneumatico il sistema ma lo visualizza immediatamente sul dashboard del veicolo stesso. All'interno della scatola ci sono quattro sensori di pressione elettronici sui quali sono già indicate le posizioni di installazione ed un ricevitore che va installato all'interno del veicolo stesso. Ringrazio tutti quelli che hanno visto questo video e spero che in molti possiate fare questa scelta e avere i benefici che anche io ho dall'installazione di questo strumento. Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione. Grazie a tutti e arrivederci.